L'ospedale di Sondro finisce sotto la lente di ingrandimento di Sondro Democratica, lista civica che il Consiglio Comunale siede nei banchi della minoranza. Si solleva una serie di criticità che vanno dalla carenza di personale al taglio dell'attività all'interno della struttura ospedaliera. Al netto dei finanziamenti per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'ospedale, Sondro Democratica ribadisce la mancanza di un vero piano per far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico. Le criticità sono molteplici. Innanzitutto la carenza di medici che si ripercuote su un elevato incremento delle liste d'attesa su tutte le specialità. Questo però dobbiamo sottolineare è un problema dovuto anche al fatto che molti medici che lavorano in un ospedale scelgono di andare via perché manca una programmazione, una progettualità e la carenza di conseguenza determina lavorare in condizioni che non sono sicuramente adeguate. Secondo Sondro Democratica, la situazione attuale, che negli anni è andata peggiorando, compromette il diritto alla salute e alle cure. Anche se la delega in materia sanitaria regionale, il sindaco resta il primo referente per una comunità. Il passo ufficiale è una interrogazione da portare nel prossimo Consiglio Comunale. È stato un punto fermo che abbiamo trattato anche in campagna elettorale e ci sembra giusto e doveroso, stante la situazione dell'ospedale di Sondro, chiedere all'amministrazione e al sindaco se ha conoscenza della gravità della situazione in cui versa l'ospedale di Sondro e di conseguenza cosa l'amministrazione intende fare per risolvere il problema annoso della sanità. L'interrogazione è stata sottoposta e condivisa anche dagli altri gruppi di minoranza. Ma le proposte di Sondro Democratica quali sono? La cosa fondamentale è avere un progetto sull'ospedale di Sondro perché l'ospedale di Sondro è l'ospedale del nostro capoluogo di provincia e deve essere un ospedale che fornisce tutti i servizi per la popolazione soprattutto per la popolazione della nostra città. Un tema è quello della sanità che resta caldo. Se in questi giorni parliamo degli ospedali di Sondro e di Morbegno dopo esserci occupati del Moreglio e del presidio di Chiavenna è perché c'è il rischio che, concluse le campagne elettorali, la soglia di attenzione su questi argomenti si abbassi pericolosamente.